2019 Miami Open, single champion, Mr. Roger Federer! Trionfo per Roger Federer agli Open di Miami. Si tratta della vittoria numero 101, la quarta in Florida per il campione svizzero che in soli due setta ha stracciato col punteggio di 6-1-6-4 il campione uscente John Isner. Al campione svizzero sono bastati 64 minuti per battere l'infortunato e sfortunato avversario, già incontrato sul campo e sconfitto per 7-6-6-3 a Indian Wells nel 2012. Splendida la forma fisica, ottima la reattività, in tutto il match lo svizzero riesce a lasciare solo tre punti al servizio. Col successo di Miami Federer torna momentaneamente al primo posto della race, la neoclassifica che tiene conto dei risultati dell'anno solare in corso. A quasi 38 anni il tennista svizzero resta ancora l'uomo da battere. Altre otto vittorie agli Open e il record assoluto di Jimmy Connors sarebbe suo. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.